Calcio Serie D, la San Cataldese vittoriosa in trasferta. I Verdi Amaranto conquistano tre punti pesanti contro la Mariglianese. Primo tempo a reti inviolate. Nella ripresa è Tuccio a sbloccare il risultato. Lo 0-1 galvanizza la San Cataldese che a 15 minuti dal novantesimo raddoppia meritatamente con Zerbo, autore di una prodezza. Nel finale la Mariglianese accorcia in vano le distanze. Nel girone I guida saldamente la graduatoria il Catania. A nove lunghezze le inseguitrici Locri e Lamezia. I risultati della giornata. Catania-Real Aversa 1-0. Cittanova-Castrovillari 0-0. Licata-Trapani 2-2. L'Ocria-Cireale 2-1. Paternò-Lamezia 0-1. San Luca-Ragusa 2-2. Mariglianese-San Cataldese 1-2. Vibonese-Santa Maria 3-1. Sant'Agata-Canicatì 2-1. La classifica. Catania 39 punti. L'Ocri e Lamezia 28. Sant'Agata-Vibonese 25. Ragusa 22. Castrovillari-Licata-Trapani 20. Reala-Versa 19. Canicatì 18. San Luque-San Cataldese 17. Acireale 15. Santa Maria-Cittanova 14. Paternò 13. Mariglianese 3. Nel campionato di eccellenza a girone A la Nissa supera il Mazzara allo stadio Marco Tomaselli. Ospiti in vantaggio con un gol firmato da Castro al 26esimo. Pochi minuti dopo arriva il pareggio messo a segno da San Martino. Sull'1-1 la squadra mazzarese capitola la seconda volta con Messina. Nel finale i biancoscudati vanno ancora una volta a segno con la Vardera. In vetta la classifica sempre l'Akragas vittoriosa tra le mura amiche con la Don Carlo. A seguire l'Enna che spugna il campo della Parmonval. E la Profavara che travolge il Cuspalermo. Il quadro completo dei risultati della giornata. Castellammare Sciacca 1-1, Parmonval Enna 1-4, Acragas Don Carlo 2-0, Casteldaccia Leonfortese 0-0, Profavara Cuspalermo 5-0, Oratorio Marineo Resuttana 3-3, Mazzarese Gela 1-0, Nissa Mazzara 3-1. La classifica Acragas 33, Enna 32, Profavara 31, Don Carlo 29, Mazzara 25, Mazzarese 24, Sciacca 23, Casteldaccia 20, Nissa 18, Castellammare 17, Leonfortese 15, Oratorio Marineo 13, Resuttane Cuspalermo 8, Gela 6, Parmonval 5.